Oh bambini, volete vedere quanti costi a fare? Di sotto è in più, Adda. Oh, grazie, la cara. Sì, sì, la sua vita è in più, è un po' tanto. Se vuoi passare qua, sì? Dove neanche se c'è per farlo, non c'è ma da discendere. Oh, sì, c'è un nuovo, assolutamente. Mi piace questo, mi sono pensato a me qualcosa di questo. E allora pensiamoci, per favore. Per un momento. Ho trovato, ieri la mia vicina è andata ad aprire la porta e c'era un uomo di fuori. E l'uomo ha detto alla signora, mi dispiace ma ho investito il suo gatto poco fa. Oh, com'è triste, povero gatto. E poi l'uomo ha detto che non sono disposta a impiattare il mio. E la signora ha risposto per me, va bene, ma lei mi sa prendere i copi. Non puoi diventare triste, non ci sforza, ma ci sa come. E' ora di tornare a casa. Oh, mia, com'è triste. Sei la cosa più triste che aveva sentito. Andiamo, bambini, ok. Come se vuoi andare? Oh, gli amici vengono a trovarmi, di tanto in tanto, sai, io mi diverso molto, ma voi devono tornarsene a casa e mi sento tanto triste. Non temere, torneremo presto. Ci siamo fermi di qualche più mondo. Bec, occupati tu della fiorga. Vabbè, resterò con lui ancora un po'. Vieni. Io, adesso, sono una bujena che ho tenuto in tempo per un'ottesione come questa. Poi ti sentire. Sei capo. Riguardami, o no, vedi. Una notte mi è che un nico, sai. Ti spaventò e cade dal letto sul pavimento. Io, come gli dico, non ti senti, nonno. E lui, no, bello, ora mi sento un po' giù, francamente. E lui, no, bello, ora mi sento un po' giù.